Ci ha lasciato quasi due anni fa, era il marzo del 2014, ma l'avvocato De Mutis resterà per sempre nella memoria di tutti i tifosi bianco-rossi e di quindi, dove lo vado, dedicati che ti rende in mente qualcosa di importante, è lo stato che l'ho visto protagonista con grande maggiore per tanti anni. Per Nicola De Mutis, oggi il giusto omaggio a topare per tutto quello che hai dato al calcio a basso. Volevo ringraziare a nome della famiglia tutti i tifosi, da quelli più fortunati, più anziani che hanno visto i tempi della Serie C, ai più giovani che spero che vedranno palcoscenici adeguati alla città di Basso e alla sua squadra. Ma un ringraziamento particolare vorrei farlo a mia mamma che ha sempre consentito a mio padre di svolgere a pieno la sua passione per il calcio senza mai ostacorarlo e quindi un saluto particolare e doveroso farlo a mia madre. Grazie.